di strippare anche questi punti se ne trovate perché in realtà più la pelle è libera di respirare e prima passa qualsiasi tipo di obitazione scendo verso dietro dando la direzione al pelo che mi interessa ricreare con il pelo questo parallelismo e andare a nascondere eventuale stop troppo accenchiato tenderò a farlo abbastanza corto